Non è solo una plazza, è un risultato di un lavoro intenso, un retto, il contratie, è un simbolo di perseveranza e di sempre che è il centro di città di Tadambe. Il progetto qui è un progetto buon, non un progetto grande, ma è un progetto di Tadambe, un progetto di Tadambe. Il progetto è un progetto che non si compromette per farlo dalla pandemia, ma è forte e resiliente. E' questa è la maniera che noi stiamo facendo, è questa è la maniera che noi stiamo facendo, poco a poco, passo a passo, per assinare un progetto di progresso che noi stiamo facendo e che arriva anche a cada città di Tadambe. Mi ringrazio il ministro Weiber, mi ringrazio il collega del ministro che ha cooperato, il ministro di Tadambe, che ha cooperato con il ministro di Tadambe, che ha contribuito con il contribuzione. Il fondo è un limitario, è un forzato di essere un po' più creativo, un po' più responsabile per il fondo, per buscare alternativi per il risultato di Tadambe. Mi speranza e mi deseo notare così è stato utile per comezziare a stimular il settore privato, Tadambe e tranne un'altra parte. E poi ci sono tutti i costi di essere un'area che è un'area che si chiama ogni settore privato. Ci riconosciano, ci riconosciano e ci riconosciano, ci riconosciano e ci riconosciano, ci riconosciano e ci riconosciano che ci riconosciano e ci riconosciano per farlo dalla nostra città di un progetto di un'estate del cammino. Sì, mi servei importanti di pensare che incansabli, non è facile, ma sobra qualcosa di edificio non è più privato, non è più privato. E se vuoi prendere la placa, non si copiare, non? E poi rispondono a limitare, vogliono invertire il cammino come sai, come sai da dare un risultato. E questo è quello che non vuoi. Voi torno, e ha avuto diversi commercianti a invertire il edificio, a costruire il edificio di nuovo, e ora pensare che la inversione di copiare non dà mai più risultato. Allora, io sei la inglese direzione che non si copiare. Grazie.